La prima metà della nuova esplosiva docu-serie del principe Harry e Meghan Markle è ora disponibile su Netflix. Scrivendo nella sua colonna per il New Zealand Herald, la scrittrice e commentatrice reale Daniela Elser ha affermato che il principe William è il vero obiettivo della serie bomba di Meghan e Harry, suggerendo che Harry stia mettendo sale sulla ferita mentre continua a muovere accuse contro la famiglia reale, insieme a Meghan Markle, la signora Elser scrive, oggi, il giorno dopo la sera prima, qualcosa è diventato chiaro e che c'è qualcosa di una vittima dimenticata in questa triste saga Il Vecchio William. Punto. Parlando di William, il commentatore reale ha descritto il figlio maggiore della defunta Diana e del re Carlo III come colui che ha spinto i fazzoletti della madre sotto la porta del bagno mentre lei piangeva dentro e quello che ha cercato di sostenere suo fratello quando erano entrambi adolescenti addolorati. Ha aggiunto, la sofferenza dell'attuale principe di Galles generalmente si perde quando parliamo del Great Makes It Messe e di fronte alle lamentele dei Sussex in prima serata. Punto. Lo scrittore fa quindi riferimento alla decisione di Harry di utilizzare il filmato dell'intervista della madre del 1995 con panorama che William ha precedentemente dichiarato che desidera non venga mai più utilizzato. La signora Elser ha descritto questo come strofinare il sale nella ferita dopo che William in precedenza aveva rilasciato una dichiarazione insolitamente energica dicendo che non avrebbe mai più dovuto essere riprodotta dopo che l'inchiesta Dyson dell'anno scorso aveva scoperto che la principessa era stata indotta a partecipare. Ha notato che un amico di William e Kate ha precedentemente rilasciato un'intervista al Daily Beast e ha affermato che è difficile immaginare quanto siano stati devastanti gli ultimi tre anni per William, prima di fare riferimento al precedente legame incredibile di William con suo fratello minore. Nella serie di docu Netflix appena rilasciata, Harry ha elogiato sua madre per aver cercato di proteggere lui e William dall'attenzione dei media e dai paparazzi quando erano bambini. Il sono stato un amico di prendenza di vediamoci di un amico di rispond seri Puntere il nostro complesso di Comuncare La maskedenza dell'anno scorso avevo scoperto che non fosse anche una La sette Il spiege è un amico di presentazione Il classico di un amico di un amico di passare in questa esigenza Il corso di domanda è un'enfero senza dubietta Ill'im付 tante oppure che si Lewandre Il quest'usco di un amico di prendere del colore Minore per aver comp !!! Il amico di una pericolata è un amico di quando